ciao ragazzi e ben ritrovati oggi in questo tutorial voglio analizzare insieme a voi la canzone dei modà quelli come me allora la parte ritmica è molto semplice bene o male sia le strofe che i ritornelli hanno la stessa ritmica quindi l'analizziamo lentamente allora la velocità del brano è 63 bpm noi adesso analizziamo la prima strofa a velocità ridotta cioè a 50 bpm come vedete rullante sempre su 2 su 4 quindi non ci sono variazioni la cassa sull'uno sulle varie del 2 e sul 3 ed eventualmente anche sulle varie del 4 come vedete la prima delle due misure ha anche la cassa sulle varie del 4 mentre la seconda chiude con il rullante sul 4 stessa cosa è la ritmica del ritornello l'unica differenza è che io apro il charleston per variare un po la dinamica allora nel brano troviamo alcuni fill li andiamo analizzare uno ad uno il primo che trovate è quello che vi porta dalla prima strofa al primo ritornello ed è molto semplice la struttura è questa cassa sull'uno rullante sul 2 cassa sulle varie del 2 e cassa sul 3 dopodiché sul 4 abbiamo un lancio che sono due sedicesimi e un ottavo rullante tom e timpano ritornello che si divide in due parti tra la prima e la seconda parte troviamo un altro fill la struttura iniziale è sempre la stessa cassa sull'uno rullante sul 2 cassa sulle varie del 2 e sul 3 sulle varie del 3 parte il nostro rullo tutto in sedicesimi e sul rullante 1 2 3 e via 1 3 4 in questo rullo io parto leggero e cerco di aumentare un po la dinamica questo stesso rullo lo troviamo tra la seconda strofa e il secondo ritornello e poi anche prima della solo arriviamo al nostro solo due giri e due fill abbastanza simili vediamo il primo ritmica di base sempre la stessa sul 3 e sul 4 abbiamo sedicesimi tutti su rullante quindi un altro rullo simile a quello di prima anche qui giochiamocela con un po di cambio di dinamica 1 2 3 e via sul secondo giro invece il nostro fill cambia leggermente sul 3 sempre 4 sedicesimi sul rullante sul 4 ci spostiamo su il primo tom quindi due sedicesimi sul primo tom dopodiché raddoppiamo in trentaduesimi e lo dividiamo due colpi sul secondo tom e due colpi sul timpano 2 3 e via ok il finale quindi sull'1 e sul 2 stessa divisione ritmica sul 3 abbiamo una figura sincopata che suona esattamente così quindi sul 3 suoneranno primi due sedicesimi e il quarto sul 4 primo sedicesimo e gli ultimi due vediamola nel dettaglio 1 2 3 e via anche qui la divisione viene fatta tra il primo e il secondo tom e il timpano penso di averla analizzata al meglio vedete che non è per niente difficile basta un pochino d'allenamento mi raccomando se fate fatica rallentate ancora un po i bpm e lavorate bene su quelle parti che magari vi riescono un po' meno dopodiché mettete tutti insieme e buon divertimento non dimenticatevi di scaricare la parte dal link che trovate qui sotto se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi e magari mettete anche un bel like non mi resta che salutarvi per oggi e augurarvi come sempre un buon groove alla prossima ciao grazie